Ah? Ma come decano te? Te le posso fare qui? Che se non c'era la spara? E' giocato in franquise! Ehi, scavolato una tua volta! Allora, non puoi far vedere un po' di tempo! Ah, no? Ma tu? Dov'è meglio? Faccio la tua posizione degli oggetti? Ti posso tornare il primo a te, no? Ti trovo in bello! E ti prendo mai i campini come un tottorazio! Io ho comissato sì! Ma che c'è? Il tottorazio, il tottorazio! Sfinanzato? Sfinanzato? No! Esigo? Sua volta sarà il 700%. Sfinanzato? Sfinanzato! 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 Pisa, vino, palma di maio, che lo dà? Osta n'info, good ways. Pisa, ticci, ticci, spidiavasti, palavasti, ali vale, mezzano, ozzurrova, ali dure ozzurrova, ali cino ozzurrova, è setto, ma è, ero a colpendo, ero a colpendo, non c'è posto da un mezzo, ero a colpendo. Diva un po' più così, ma non fa, a poter, i baschetti, i baschetti, e troppi viola, devi facciare.